Dieci influencer, ossia blogger e giornalisti che lavorano sul web, punto d'incontro per eccellenza di chi si occupa di organizzazione di meeting. Sono a Bari da ieri per un weekend alla scoperta delle tante opportunità che la Puglia offre al turismo congressuale, frontiera non troppo esplorata sinora da queste parti, eppure a livello mondiale il turismo di meeting e conferenze occupa un quarto del mercato. In Italia è cresciuto del 2%, in Europa del 3%, il che significa che il marchio Italia, benché sia il terzo conosciuto nel mondo dopo una nota marca di bevande e una carta di credito, ha perso un po' di appeal. Bisogna recuperare questa fetta di mercato che si integra perfettamente con le altre forme di turismo e l'obiettivo del portale Apulia2Meet, che insieme a Puglia Promozione ha organizzato l'educational per i blogger, con uno spazio dedicato al dibattito al quale hanno partecipato il presidente della Fiera di Levante e l'assessore al marketing del comune di Bari. Migliorare l'utilizzo del social network e promuovere in maniera efficace l'offerta congressuale in Puglia può aiutare le strutture e soprattutto far crescere un territorio che sul turismo ha imparato a investire.